Voglio dedicare questa canzone a chi ancora non ha capito di che pasta siamo fatti, tante persone così come me. Vi dedico questa canzone, ascoltatela, questa è una canzone di forza. La moto senza casco e senza specazzo dei cinture. Ci sentivamo operai quando facevamo le manifestazioni. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La stanza abbattata non ha funzionato. Quando arrivi su un chisso cosa hai perso e chi ci ha guadagnato? No, 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 no. Non penso che se provi a cambiarlo Islare il piatto Per ritornare lo stesso